C'è un motivo se hanno voluto me. Carlotta, ci sono destini peggiori che quello di sposare il re. Vostra maestà. Sono Giorgio. Siete la prima nel vostro genere. Assicurate la vostra posizione. Darai a mio figlio quanti più eredi possibile. Sei la persona più regale che io abbia mai conosciuto. Siamo io e te. Insieme.